ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerò i foglietti illustrativi degli alimenti veterinari più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'alimento veterinario cal flitte plus vetto quino l'italia srl ultimo aggiornamento 16 gennaio 2023 informazioni commerciali confezioni formulazione indicazioni posologia tempi di sospensione informazioni commerciali titolare vetto quino l'italia srl concessionario vetto quino l'italia srl confezioni cal flitte plus sospolvere 24 bustine da 90 g formulazione destrosio 65 per cento sodio acetato 18 3 per cento cloruro di sodio cloruro di potassio fosfato monosodico fosfato di potassico proteina del latte in polvere comprendente latto ferrina 0 1 per cento zucchero caramellato indicazioni è da usare in caso di rischio di disturbi digestivi diarrea e periodi nei quali tali disturbi sono presenti per la combinazione di sodio acetato elettroliti e destrosio è un mangime complementare dietetico ipertonico 490 mosm barra l destinato a vitelli con disturbi digestivi diarrea una volta ricostituita la soluzione non interferisce con la digestione del latte e può essere somministrata a vitelli allattati sia naturalmente sia artificialmente posologia sciogliere uno busta 90 g in due litri di acqua tiepida 37 gradi e somministrare la soluzione con biberono sonda gastrica fornire due litri di soluzione fresca da due a tre volte al giorno come unico alimento oppure insieme all'alimento normale latte o sostitutivo del latte fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato